Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono 32 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Rispetto ad una settimana fa, oltre ad un aumento dei casi, si registra un piccolo aumento anche dei ricoveri ordinari. La provincia dove ci sono stati più contagi negli ultimi sette giorni è quella di Teramo e il manager della ASL di Giosia, oltre a confermare l'impatto della variante Delta, lancia un ulteriore appello alla vaccinazione di servizio. Sono 32 i casi di positività rilevati nell'ultimo bollettino Covid in Abruzzo attraverso l'esame di 3.969 test, 2.195 molecolari, 1.774 antigenici, con un tasso di positività dello 0,8% che dunque scende rispetto all'1,32 registrato ieri. Positività di età compresa tra 6 e 77 anni. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 75.103, numero che risulta inferiore in quanto sono stati sottratti due casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra regione. Non si registrano nuovi decessi. Circa il confronto con la settimana scorsa si verifica un aumento dei contagi pari a 206 in crescita rispetto ai 185 della settimana precedente. Per la seconda settimana consecutiva non si registrano decessi e il numero totale di vittime contagiate dal Covid resta di 2.512. Inversione del trend per i ricoveri ospedalieri. Dopo diverse settimane di flessione, quelli ordinari tornano a segnare un più 5 rispetto a 7 giorni fa. Sono ora 26. Invariato il numero di quelli in terapia intensiva, con un solo ricovero attivo. I dimessi guariti settimanali sono stati 173 e così gli attualmente positivi in Abruzzo sono saliti di 33 unità. In isolamento ci sono 879 pazienti, più 28. Circa l'aumento dei casi, la provincia che ne conta di più è quella di Teramo, 87, seguita dall'Aquila, 68, Chieti 33 e Pescara 17. La ripresa della crescita dei contagi trova anche riscontro nel monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute con l'Abruzzo che viene classificata regione a rischio moderato assieme a Campania, Marche, Veneto, Sicilia, Sardegna e le province di Trento e Bolzano. Anche se, si specifica sempre nel monitoraggio, nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Resta evidente l'impatto della variante Delta. Ne ha parlato stamani proprio il manager dell'Asl di Teramo, Di Giosia, che invita la popolazione a proseguire nelle vaccinazioni. Dagli ultimi dati c'è un lieve aumento. Soprattutto emerge dai sequenziamenti che facciamo con l'Iz.a.s che trattasi della variante Delta, della variante indiana. La maggior parte, ormai il 91% dei casi che tracciamo si riferiscono a questo tipo di variante e va posta molta attenzione a questa problematica. Quindi abbiamo messo in gamba, stiamo mettendo in gamba tutta una serie di attività di tracciamento, di sorveglianza attiva. L'UCAT ha ripreso appieno la propria attività di controllo del territorio. Situazione che va molto attenzionata. Però qui ci porta una riflessione. La gente deve vaccinarsi. Se la gente non si rende conto che si deve vaccinare, ma non solo per se stessi, ma anche per salvaguardare la salute degli altri. La campagna vaccinale ha avuto una battuta di arresto, visto le situazioni comunicative su alcune tipologie di vaccino che c'è stata. Però adesso cerchiamo di riprenderla, sia attraverso l'azione di convincimento che stanno portando avanti i mesi in base, e sia attraverso la nostra azione di tornare a gestire bene il territorio, a essere presente sul territorio, anche come hai detto tu con il camper, con queste, come possiamo dire, metodologie che vanno a incentivare la popolazione a vaccinarsi. Abbiamo pagina il segretario generale della CGL Maurizio Landini. Questa mattina l'Aquila ha presentato le proposte del suo sindacato che prevedono prevenzione e una legge quadro per le ricostruzioni post-sisma. Il servizio. I tempi sono maturi per una legge quadro per ridurre l'impatto delle calamità naturali e garantire una qualità della ricostruzione e favorire la salvaguardia dei rischi. Così il segretario generale della CGL Maurizio Landini intervenuto all'Aquila ad un evento nel quale il sindacato ha presentato le proposte per affrontare diverse questioni. Dalla struttura organizzativa con un comitato operativo nazionale incardinato nella presidenza del Consiglio, alla ricostruzione che deve essere dall'inizio anche rigenerazione socio-economica e va in ogni modo garantita la qualità del lavoro, sbarrando la strada al massimo ribasso alle finte cooperative. E per fare in modo che dopo i danni da sisma anche il post abbia una coerenza su tutto lo stivale e non tenga conto del momento specifico. Secondo Landini infatti nel nostro paese per quanto riguarda la governance di un post-sisma abbiamo un problema in più con la modifica del titolo quinto della Costituzione che ha frammentato il livello decisionale nelle singole regioni il cui effetto si vede anche nelle normative e negli approcci alle ricostruzioni. Vuol dire evitare quello che è successo in questi anni e cioè che ti trovi con normative tra loro diverse che si sovrappongono e al limite portano all'assurdo che la stessa persona a seconda del terremoto dei danni che ha ricevuto da un terremoto può avere condizioni diverse. All'Aquila può succedere che se uno ha avuto un danno nel 2009 o nel 2016 ha due trattamenti diversi. Ecco, credo che questo sia un esempio che renda molto chiaro che una legge quadro comune è un elemento di vantaggio per tutto il paese e per le persone. Anche per il commissario per la ricostruzione post-sisma del centro Italia Giovanni Legnini occorre stabilire la governance che deve guidare il processo quando finisce l'emergenza e inizia la ricostruzione che in media dura non meno di dieci anni. I gruppi parlamentari e le strutture tecniche, ha confermato Legnini stanno lavorando ad un testo di legge delega con un codice delle ricostruzioni con una disciplina dei diritti dopo un evento catastrofico in quale misura e a beneficio di chi. L'altro grande pilastro, ha concluso Legnini della futura legge quadro è la codificazione del procedimento senza cui i diritti non possono essere garantiti e diventare realtà. Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio a Montesilvano nella zona dei grandi alberghi e del fiume Saline le fiamme hanno lambito anche il Luna Park presente nell'area ma i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo in azione otto squadre del comando provinciale di Pescara e un elicottero che ha effettuato dei lanci a bruciare le sterpaglie e il canneto presente sulla sponda del fiume. Un altro incendio era divampato sempre a Montesilvano ma nella tarda serata di ieri nella zona del Colle della Vecchia grazie al pronto intervento di vigili del fuoco volontari e protezione civile le fiamme sono state domate intorno alle 2.30 della notte scorsa. I nuovi orari riservati alle attività di ristorazione di Pescara non sono andate giù alla CNA che dice inascoltate le ragioni sia di esercenti sia di residenti. Stefano Recanati. Le attività del centro storico e del centro cittadino come Piazza Muzzi potranno abbassare le serrande nei weekend alle ore 2 lasciando ferma la mezzanotte per gli altri giorni della settimana. E questo quanto deciso dall'Aggiunta Masci sui nuovi orari della Movida in vigore a Pescara fino al 24 luglio. Questa nuova ordinanza però non è andata giù alla CNA Pescara che ritiene del tutto insoddisfacenti le nuove scelte e chiede al Sindaco di trovare una conciliazione nel nome di una reciproca tolleranza. Tutte le associazioni di categoria nei vari confronti che si sono succeduti hanno espresso delle posizioni. Naturalmente il Comune di Pescara ha scelto un'altra impostazione puntando esclusivamente sugli orari di chiusura così come sono stati stabiliti dall'ultima ordinanza. Noi riteniamo che il problema va visto nella sua complessità non è solo una questione di orari di chiusura stabiliti ma anche nella gestione degli spazi e delle aree pubbliche intorno a queste attività. Noi avevamo chiesto un allungamento intanto della possibilità di aprire sia durante i giorni infrasettimanali sia nei weekend. Naturalmente questa cosa non è andata e quindi l'ordinanza che ha emesso l'amministrazione comunale scontenta sia i residenti sia gli esercenti. Noi riteniamo ancora che con questa situazione anche con le notizie buone che ci sono nel versante della gestione della pandemia si poteva fare qualcosa in più si poteva dare la possibilità agli esercenti di poter lavorare di più perché veramente ne hanno bisogno visto quello che è accaduto nell'ultimo anno. Vanno prese delle misure specifiche se c'è una necessità di valutare anche l'impatto acustico che queste attività hanno nelle ore più prettamente notturne va valutata questa possibilità con delle valutazioni anche di natura tecnica per cercare di trovare la condivisione e non semplicemente la delimitazione di orari che poi come abbiamo visto non hanno soddisfatto né i residenti che vogliono dormire la notte né gli esercenti che vogliono esercitare liberamente la propria attività nel pieno rispetto della normativa. Presentato il progetto di legge a firma del Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari in materia di autorizzazione e accreditamento di strutture socioassistenziali e socioeducative in Abruzzo e servizi alla persona. Vediamo. Minori, anziani e disabili sono queste le categorie fragili d'Abruzzo che beneficeranno della proposta di legge del Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. una norma che va ad agire sui servizi e sulle strutture socioassistenziali della Regione ridefinendo i parametri delle autorizzazioni e degli accreditamenti per garantire qualità, efficienza ed eliminare i potenziali sistemi corruttivi. La legge vigente, obsoleta e di 16 anni fa, del 2005 non ha mai prodotto il regolamento attuativo quindi voi immaginate la Regione Abruzzo ha lasciato nel caos tutte le strutture esistenti ognuno ha fatto quello che voleva senza un regolamento attuativo quindi la nostra proposta di legge parte anche da un'altra criticità che la legge vigente presenta carenze mancano requisiti organizzativi strutturali, di personale manca addirittura un'anagrafe unica di tutte le strutture in Regione Abruzzo non è mai stato fatto un censimento quindi non sappiamo quante strutture ci sono ed è gravissimo e ci sono ancora competenze in capo alle province che non ci devono essere più che non devono essere abolite la nostra legge appunto prevede dei requisiti stringenti che ogni struttura deve insistere in aree che permettono la vita sociale le attività collettive dei propri ospiti deve prevedere degli operatori sanitari sociali, educativi, qualificati con titoli di studio adeguati un responsabile, un coordinatore della struttura addirittura la novità vogliamo che per ogni ospite di queste strutture vi siano dei piani educativi individuali dei piani assistenziali individuali per veramente recuperare e guarire gli ospiti non vogliamo più che ci siano strutture che servono solo per prendere soldi pubblici le strutture devono recuperare gli ospiti ecco questa nostra proposta prevede altresì che entro 120 giorni la regione deve emanare un regolamento e nei successivi 60 giorni la giunta deve emanare una direttiva che stabilisca le modalità per autorizzarsi ed accreditarsi e poi abbiamo messo un servizio di vigilanza forte importante che possa vigilare i suoi requisiti chi perde i requisiti deve andare a casa non può essere più autorizzato e accreditato dalla regione Abruzzo un settore dove ci sono molti interessi perché girano decine e decine se non centinaia di milioni di euro perché chi si autorizza convenziona questi sono soldi che vanno allora per la prima volta noi vogliamo che le strutture salvino veramente curino veramente recuperano veramente la fragilità della nostra regione e non stiano lì solamente per prendere soldi pubblici ringraziamento a chi ha operato con la schiena dritta a testa alta ma ci sono alcune che naturalmente hanno avuto anche seri problemi l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veria ha accolto le ultime richieste dei sindaci della Marsica relativa ai nosocomi di Avezzano Tagliacozzo e Pescina vediamo abbiamo ribadito nel corso dell'incontro con la delegazione dei sindaci della Marsica la nostra attenzione per i presidi di Avezzano Tagliacozzo e Pescina che avranno una precisa vocazione e un ruolo di complementarietà all'interno della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale in particolar modo Tagliacozzo avrà una vocazione prettamente riabilitativa mentre Pescina avrà un ruolo determinante per la lungodegenza con la contemporanea attivazione di nuovi servizi ho confermato oggi il nostro progetto di portare avanti parallelamente alla rete ospedaliera anche la riorganizzazione della rete territoriale attraverso il potenziamento l'istituzione di ospedali di comunità e case della salute in una logica di integrazione ospedale-territorio che andrà a decongestionare l'attività del pronto soccorso e di alcuni reparti dell'ospedale di Avezzano ricevuti dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri gli amministratori dei comuni di Avezzano Tagliacozzo e Pescina sono tornati a riaccendere la luce sul riordino della rete ospedaliera bruzzese riordino contenuto ancora entro le righe delle pagine di una bozza una delegazione tecnico-politica marzicana per la salvaguardia dei presidi ospedalieri del territorio per evitare brutte sorprese alla fine della fiera è stato confermato il titolo di ospedale a Tagliacozzo abbiamo 12 posti in più per la riabilitazione respiratoria quindi ai 40 vecchi si aggiungono i 12 in più per la riabilitazione respiratoria c'è ancora da limare qualche piccola criticità ma insomma siamo sulla buona strada e per questo ringrazio appunto l'assessore Veri semaforo verde ad Avezzano per la UOC di allergologia e all'UOS di neurologia vascolare per l'unità operativa complessa di neurologia ok anche alla richiesta per l'unità organizzativa di sede dell'emodinamica dopo il servizio ottenuto nel 2015 nel primo governo di Pangrazio adesso si sancisce anche la UOS in un'unità salvavita dopo gli impegni presi dall'attuale giunta regionale sulla riqualificazione della RSA di Città Sant'Angelo nulla ancora è stato fatto a denunciare il tutto il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli il quale porterà questa situazione all'attenzione del prossimo consiglio regionale vediamo Città Sant'Angelo rischia di perdere la RSA e voi al consiglio regionale portate proprio questo all'attenzione chiedete a Laverri l'UMI sulla situazione reale abbiamo presentato un'interpellanza su richiesta del gruppo comunale di Città Sant'Angelo del Partito Democratico e del circolo del Partito Democratico per chiedere una parola chiara sulle tante voci che si rincorrono ormai da due anni circa un trasferimento un azzeramento dei posti letto della struttura RSA di via Baiocchi a Città Sant'Angelo e di un ipotetico trasferimento che pure si è ventilato a tocco da Casauria lo chiediamo e lo chiediamo soprattutto alla luce delle tante promesse che sono state fatte su questa RSA il 13 febbraio 2020 l'assessore Veri andava a visitare questa struttura e prometteva un rafforzamento da allora assolutamente nulla anzi questo è il terzo piano qui diciamo tra pavimenti avallati mura scrostrate sporche e dove vivono i pazienti dove sono costretti ad andare anche i familiari mentre nel secondo piano quello che è stato dato appunto alla medicina Angulum un gruppo di medici di medicina generale sono stati fatti 92 mila euro di investimenti che noi abbiamo anche apprezzato perché è giusto che questa struttura medica torni nel centro storico di Città Sant'Angelo ma rispetto ad agosto del 2020 quando è stata sottoscritta questa convenzione è trascorso un anno e questi medici non sono ancora andati i medici non sono ancora andati ma la struttura è stata messa a norma mentre laddove funziona la struttura non è assolutamente a norma queste e le scelte politiche appunto che dicevamo prima sono state l'oggetto di questa interpellanza che i consiglieri di Città Sant'Angelo mi hanno chiesto di presentare in consiglio regionale che risposta vi attendete? intanto parole chiare e soprattutto una presa di posizione rispetto a quelle promesse del 13 febbraio 2020 vogliamo veramente un rafforzamento di questa struttura che è sempre stata il fiore all'occhiello della medicina angolana ma di tutta quell'area a Pescara le varie componenti del liceo Marconi hanno voluto comunicare alla cittadinanza e alle istituzioni le iniziative che intendono adottare nella difficile fase di smembramento del liceo affinché vengano messe in condizione di ridurre al minimo il disagio di studenti e personale Jacopo Forcella il futuro del liceo Marconi di Pescara nella prospettiva dell'anno scolastico che si aprirà dopo l'estate sono i punti di partenza ma non solo quelli dell'incontro del comitato Marconi Quo Vadis che ha messo insieme tutte le componenti che ruotano attorno all'istituto con l'intento di far luce sulle criticità esistenti avanzare delle proposte che diano maggiori certezze Siamo in una fase di angoscia reale nel senso che non sappiamo da qui al primo settembre dove la comunità scolastica in tutte le sue componenti studenti docenti personale ATA cosiddetto dove potremo riprendere le nostre attività per fornire un servizio di qualità così come abbiamo fatto per decenni noi difenderemo le nostre diciamo rivendicazioni che poi si sostanziano esattamente nella possibilità di rimanere innanzitutto a Pescara unitariamente tutti e tre gli indirizzi di studio in secondo luogo siccome abbiamo un fenomeno di pendolarismo notissimo vogliamo favorire agli studenti e alle famiglie la possibilità di individuare con certezza e dentro luglio il luogo alternativo in questo periodo di transizione dalla proposta di demolizione poi ricostruzione perché la questione è ovvio andare avanti per anni l'arrivo dei fondi per salvare il Marconi non è secondo il comitato la panacea di tutti i mali l'ubicazione della sede soprattutto per chi viaggia e la salvaguardia degli indirizzi sono tematiche determinanti per disegnare un futuro davvero certo noi non abbiamo visto ancora niente di concreto ecco come diceva il professor Dursi abbiamo visto solo una sorta di strumentalizzazione della faccianna quindi finché io rappresento le famiglie dei ragazzi come diceva appunto il professor Dursi questa è una scuola dove ci sono tantissimi pendolari noi per quanto riguarda noi genitori vogliamo sapere quanto prima dove verranno posizionati i ragazzi e ci auguriamo che rimangano insieme oggi annunceremo in sede di assemblea l'intrapresa di alcune iniziative anche abbastanza estreme ad esempio uno sciopero della fame in modo da effettivamente fisicamente impedire che i lavori inizino fino a quando non avremo nero su bianco un cronoprogramma dettagliato e condiviso rispetto appunto alla ubicazione del liceo presentato all'aurum di Pescara Fenomena l'unico salone espositivo italiano dedicato esclusivamente alle imprenditrici del sud in tre settori d'eccellenza del Made in Italy design fashion and food vediamo tre giorni dedicati all'imprenditoria femminile si chiama Fenomena il primo salone espositivo tutto concentrato sulle imprenditrici di otto regioni del sud attive in tre settori chiave del Made in Italy food design e moda l'evento che si terrà dal 9 all'11 luglio presso l'aurum di Pescara dove si svolgeranno incontri B2B tra aziende e compratori internazionali in tutto sono 67 le imprese italiane che parteciperanno alla prima edizione di Fenomena si tratta di 20 brand fashion 11 aziende della sezione design e 36 aziende dell'agroalimentare questa iniziativa è inclusa nel cosiddetto piano export sud che è un piano finanziato con fondi europei e che ha come obiettivo quello di migliorare la performance delle imprese delle 8 regioni del meridione isole più abruzzo e molise sui mercati internazionali il nostro scopo visto che queste imprese molto spesso sono piccole e micro e non riescono ad andare da sole sui mercati internazionali è di portare qui a Pescara il mondo dei buyer internazionali una volta che la donna riesce a costituire la propria società e riesce quindi a inserirsi nel mondo del business per dirla con un'espressione comune va come un treno molto spesso però nel nostro paese è difficile per la donna svincolarsi da tutta una serie di incombenze aggiuntive che a volte rendono più difficile il fatto di dedicarsi alla propria attività imprenditoriale ma una volta che l'attività è avviata vanno come dei treni come dimostrano le nostre imprenditrici fenomenali che stanno esponendo in questi tre giorni a Pescara per quanto riguarda l'imprenditoria l'imprenditoria locale la Camera di Commercio da sempre è stata vicino a tutti gli imprenditori certamente compreso quella femminile partecipiamo con la formazione partecipiamo con vari contributi con vari bandi per cui è un momento di ripartenza vera e speriamo che tutti ne cogliamo le opportunità presentata questa mattina a Rocca San Giovanni in provincia di Chieti l'edizione 2021 delle stagioni del mare dalla rete al piatto organizzata dalla flag costa dei trabocchi Paolo Renzetti le stagioni del mare dalla rete al piatto il pesce che dal produttore arriva subito al consumatore finale il flag da qualche anno ha deciso di investire una parte delle risorse di cui dispone per dare un messaggio forte soprattutto ai consumatori che anche il mare ha le sue stagionalità e vanno decisamente rispettate bisogna maturare l'idea che così come in agricoltura anche a mare accade che ci sono dei ritmi diversi a seconda delle stagioni e chiaramente il pescato varia a seconda delle stagioni quindi per alimentare questa per aumentare questa consapevolezza da parte dei consumatori abbiamo voluto questa manifestazione che chiaramente si vede protagonisti i ristoratori che sono i maestri della trasformazione dei pesci in piatti prelibati quindi con la loro collaborazione in tutto questo periodo e cominceremo nuovamente adesso dal 13 di luglio ancora una volta ci riproponiamo su queste tematiche un'edizione importante forse più importante delle altre perché arriva al termine di un periodo difficile e complicato come quello della pandemia assolutamente arriva proprio alla fine di un inverno in senso fisico e metaforico per cui abbiamo deciso di ripartire per dare un messaggio chiaramente di ripartenza di entusiasmo di solarità di estate e quindi invitiamo tutti a conoscere il pescato di stagione recandosi nei prossimi nelle prossime tre settimane da lunedì al venerdì nei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa ed ora la pagina dello sport con il calcio e nel prossimo servizio parliamo dei risponsi della Covizoc risponsi che sono arrivati ieri nella seconda serata vediamo non sono mancati i colpi di scena con l'arrivo del setaccio Covizoc sulle domande di iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro ma anche in Serie B è il Chievo che per il momento non ha ottenuto il semaforo verde dalla società che revisiona i conti delle squadre professionistiche oltre ai clivenzi in cadetterie dopo la rinuncia del Gozzano nella terza serie insieme alla questione casertana che sembra essere ormai tagliata fuori dopo la mancata fideiussione ieri sera sono arrivati gli stop a Paganese Novara San Benedettese e Carpi per quasi tutte queste società la problematica è legata alla rateizzazione dei contributi un tema sul quale vi è divergenza interpretativa sulla quale sarà possibile puntare in sede di ricorso il termine a tal proposito scade il 13 luglio alle 19 poi il 15 due giorni dopo si terrà il Consiglio federale che darà una risposta definitiva due società in particolare dovranno fare ricorso il Carpi e la San Benedettese oltre alla Paganese che aveva già segnalato il problema e forse già risolto al momento dell'iscrizione qualche dubbio sarebbe sorto sul Novara ma non sarebbe una situazione tale da destare preoccupazioni tutto che invece in casa Campobasso dopo le tribolazioni dei giorni passati i molisani hanno ottenuto la definitiva rassicurazione dagli organismi federali e la licenza nazionale per disputare il torneo che verrà per il momento dunque Paganese Novara San Benedettese e Carpi oltre alla Casertana non hanno i requisiti per accedere al campionato di Serie C ma come detto molte di queste situazioni sarebbero sanabili in caso negativo si aprirebbero ulteriori slot per i ripescaggi le situazioni di Gozzano rinuncia a volontaria e Casertana invece sembrano molto più definite e definitive dei piemontesi e neppure i campani saranno al via il prossimo 29 agosto quando riprenderà il campionato e adesso alcune squadre sperano in prima fila c'è l'Aglianese che ha comunque il problema dello stadio poi Lucchese Latina Arezzo ed FC Messina contratti onerosi e impiantistica sono gli argomenti affrontati in questa intervista con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani quanti usciranno di questo zoccolo duro dello scorso anno? è vero che noi parliamo di contratti perché così facciamo prima è vero che noi abbiamo alcuni contratti pesanti per la categoria perché l'ho detto prima e non ho problemi a ribadirlo però ne abbiamo 10 ne abbiamo 4 quindi voglio dire non sarà facilissimo ma si dovranno trovare delle situazioni delle sistemazioni di questi contratti se non dovessero riuscire ad andare via anche sistemarli qui sul posto in conferenza il presidente ha detto che non ci sono novità sul fronte allargamento societario però le chiedo sull'impiantistica perché c'è la gestione dello stadio Ugetto di Febo di Silvi c'è il poggio ecco come gestirete questi due impianti chi andrà ad allenarsi e a giocare lì? il poggio non lo lasciamo anche perché noi abbiamo un contratto che sostanzialmente è un rent to buy non è stato esercitato fino a oggi non certamente per colpa mia ma perché il poggio non aveva una cosa a posto quindi lo posso dire senza tema di smentito perché non c'era nulla che era a posto si stanno finendo i lavori per sistemare tutta la parte che non era regolare nel momento in cui termineranno noi abbiamo questa possibilità abbiamo un contratto che scade a lungo quindi in qualsiasi momento vogliamo esercitare possiamo esercitare siamo nel poggio paghiamo tranquillamente l'affitto ogni mese l'impianto di Silvi è un ulteriore spazio che occuperemo magari facendo giocare la primavera in uno stadio vero perché comunque lo stadio di Silvi è uno stadio bello ci si potranno allenare a parte le squadre del posto perché noi come ho detto all'amministrazione di Silvi al sindaco in prima persona non andremo a Silvi per rompere le uova nel paniere a nessuno anzi vogliamo collaborare con le due realtà che ci sono a Silvi e quindi sarà un ulteriore impianto a disposizione della Pescara Calcio il Pescara prima squadra si allenerà al poggio si allenerà al poggio ma si allenerà anche a Silvi perché questo ulteriore campo in erba servirà per poter far riposare e lavorare chi mette a posto poi il campo in certi periodi il campo che abbiamo o a Poggia di Olivi o a Silvi tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul sito www.tv6.it prossimo appuntamento con la nostra informazione il TG6 delle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata Grazie a tutti